Il tutor Tommaso Arrigoni, protagonista dello spazio dedicato alla cucina, all'interno del programma condotto da Caterina Balivo su Rai 2, detto fatto, ha dato la ricetta dello sformato di panettone. Di seguito Ingredienti e procedimento. Ingredienti 100 g panettone, 100 g cioccolato bianco, 75 g burro, 50 g zucchero, 40 g farina, 2 uova, 3 tuorli crema mascarpone e arance 250 g mascarpone, 250 g latte, 40 g zucchero, 3 tuorli, 1 arancia. Procedimento Montiamo con le frustre elettriche le uova e i tuorli insieme allo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A parte, sciogliamo il burro insieme al cioccolato bianco e lasciamo intiepidire. Uniamo al composto di uova e mescoliamo. Infine, incorporiamo la farina setacciata e, dopo aver mescolato, il panettone a cubetti piccoli. Versiamo il composto negli stampini monoporzione ben imburrati e spolverati con zucchero semolato. Inforniamo a 180 grado per 15 minuti. Crema al mascarpone Portiamo a bollore il latte con le scorze d'arancia non trattata. A parte, mescoliamo i tuorli con lo zucchero. Uniamo il latte caldo filtrato, mescoliamo e rimettiamo sul fuoco. Mescolando, portiamo a 82 grado la crema deve velare il mistolo. Uniamo la crema al mascarpone e mescoliamo con una frusta fino ad ottenere una salsa liscia. Serviamo lo sformatino su un letto di salsa.